Sì, allora Rossini si appresta ad essere celebrato in grande pompa magna, voi siete molto con la prua della nave sulla rotta giusta. Sì, è una grande opportunità, è una grande opportunità per l'Italia perché Rossini è stato scelto nel 2018 per promuovere la bellezza e la cultura italiana nel mondo in un programma quadriennale che poi vedrà nel 19 puntare su Leonardo da Vinci, nel 20 su Raffaello, nel 21 su Dante Alighieri. Quindi siamo molto contenti che questo anniversario abbia contribuito anche a sviluppare una strategia nazionale. In più sarà una grande opportunità di sviluppo per il nostro territorio perché noi siamo la città della musica, in generale tutta la regione Marche ha una grande offerta culturale e quindi il 150esimo di Rossini sarà un modo per portare le Marche nel mondo. Il fatto che siano state approvate negli ultimi due settimane due norme molto importanti, la prima stanza è un milione di euro per il Museo Rossiniano che è l'investimento vero che faremo, che durerà negli anni grazie alla collaborazione della Fondazione a Cassa di Risparmio che ci darà in concessione il piano nobile del Palazzo Antaldi, quindi un luogo bellissimo che già ha un museo e che diventerà il museo di Rossini, quindi una cosa molto importante per gli anni come traino per il turismo. E altre 700 mila euro stanziate ieri grazie all'impegno della senatrice Fabri con la legge speciale che ci consentiranno insieme a quelle degli sponsor e ad altre risorse che speriamo possano arrivare dalla regione di investire molto in eventi e in comunicazione. E quindi veramente un grande anno e ci apprezziamo davvero un grande anno, le celebrazioni ufficiali saranno a novembre 2018 ma già dalla data di compleanno di Rossini che è nato il 29 febbraio, quindi in base agli anni festeggiamo il compleanno e il non compleanno e già dalla fine di febbraio si avvieranno le celebrazioni e quindi stiamo lavorando per definire il meglio il programma. C'è anche un coinvolgimento di tutto quello che è il territorio, il tessuto economico, sociale della provincia, pensiamo al Carnevale di Fano che ospiterà proprio un carro a tema con Rossini, è una realtà questa cosa? Sì, stiamo cercando di coinvolgere tante realtà del nostro territorio, abbiamo fatto un accordo con Acqualagna sul tartufo perché è uno dei progetti raccontare Rossini gourmet, quindi Rossini appassionato di cibo e abbiamo fatto l'accordo con Apecchio sul tema della birra, lo abbiamo fatto con Offida sul tema del vino, lo vorremmo fare anche con tutti i produttori di Bianchiello del nostro territorio e ovviamente nella collaborazione generale che abbiamo con la città di Fano non poteva mancare la collaborazione con il Carnevale, stanno lavorando alla creazione di un carro che da quello che ho visto è fantastico e quindi stiamo definendo l'accordo tra noi e il Comune di Fano e la Carnevalesca affinché il Carnevale promuova Rossini e Rossini promuova il Carnevale del resto il Carnevale di Fano è una delle attrazioni principali dell'inverno di tutta la regione Marche, uno dei principali carnevali italiani e quindi questa collaborazione ci sembrava naturale e secondo me rafforza ulteriormente anche l'amicizia e la collaborazione tra le due città. Grazie.